Qui c'è il mio progetto Loon is Fun on the Moon! Apprende a programmare in solo 60 segundos usando OctoStudio! Si presenti nella libreria oppure si possono scattare delle foto e ritagliare il tuo personaggio e questo è un'ottima cosa che cosa sono state? E ora vedo se si può creare un'eclipso! Il theme di light deve essere... Eclipsi! Yes! Blocked by the Moon. All right, ho fun! Can't wait to see what you create in OctoStudio! Grazie.